Tanto tempo fa, in una galassia del terrore lontana lontana... Salve a tutti Giovanni Droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi, in occasione della giornata più spaventosa dell'anno, oltre ovviamente a quella della dichiarazione dei redditi, voglio parlarvi di un tema che solo all'apparenza è lontano dall'universo di Star Wars, e cioè quello dell'horror. Infatti all'interno di questo video voglio presentarvi 5 opere dell'orrore che fanno parte della galassia lontana lontana, e ovviamente vi parlerò anche di tantissime curiosità ad esse legate. Il tutto come sempre, dopo la sigla. Prima di cominciare ci tengo a ringraziare di cuore tutti coloro che sono abbonati al canale, e se anche voi volete abbonarvi per sostenere il mio lavoro, vi lascio in descrizione un link utile con tutte le informazioni e tutti i vantaggi. Mentre se non siete ancora iscritti al canale, e vi piacerà il contenuto di questo video, e soprattutto vi sono piaciuti tutti gli approfondimenti che ho portato in precedenza, potreste anche pensare di iscrivervi e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le prossime uscite. Vi conviene iscrivervi, altrimenti gli spiriti verranno a farvi visita questa notte. Cosa è stato? Boh, vabbè, lasciamo perdere. Come vi dicevo, anche se nelle opere principali non compaiono delle tematiche prettamente horror, questo iconico filone narrativo fa parte comunque dell'universo del franchise di Star Wars, sia tramite delle semplici citazioni che troviamo ad esempio anche nei film e soprattutto nelle serie tv e nelle serie animate, e sia tramite opere che invece abbracciano in toto le tematiche del genere horror, e sviluppano storie basate su di esso all'interno della galassia lontana lontana. Per quanto riguarda la prima categoria, e cioè quelle opere che prendono ispirazione da quelle che sono le tematiche horror, possiamo ricordare ad esempio gli episodi 7 e 8 della seconda stagione di The Clone Wars, dove ci viene presentata un'armata di geonosiani non morti e soprattutto ci vengono presentati gli inquietantissimi vermi cerebrali, tramite i quali la geonosiana carina controllava proprio questo esercito, e che daranno parecchio filo da torcere ai cloni. Ma come vi dicevo ci sono comunque tantissime altre storie che hanno delle sfumature horror, ma le cinque che vi sto per elencare e che fanno parte sia delle opere canoniche che delle opere Legends sono totalmente immerse all'interno di queste tematiche. Allacciate quindi le cinture perché stiamo per immergerci nell'oscurità. La prima opera di cui voglio parlarvi è il romanzo Oggi Legends, Contagio Mortale, che è stato scritto da Josh Reber e pubblicato nel 2009, mentre è arrivato in Italia nel 2014 tramite multiplayer edizioni. La vicenda è ambientata un anno prima degli eventi di Una Nuova Speranza e vede come protagonisti i personaggi della nave prigione Purge, che entra in contatto con un misterioso Star Destroyer che si trova alla deriva nello spazio. Ovviamente questo Star Destroyer si presenta all'interno in maniera molto molto inquietante e ben presto i nostri protagonisti scopriranno che all'interno del Vector, appunto lo Star Destroyer in questione, si era scatenata una particolare epidemia che aveva trasformato tutti coloro che si trovavano a bordo in famelici zombie. Questa storia è davvero molto interessante e si ispira ovviamente ad alcuni dei più grandi classici del genere, in primis Alien per quelle che sono soprattutto le ambientazioni, e in secondo luogo anche alla famosissima saga Resident Evil e più in generale a tutte quelle opere che hanno come tema principale un'apocalisse zombie e soprattutto la diffusione di agenti patogeni. Sia in quest'opera e sia soprattutto nel suo prequel del quale vi parlerò a breve scopriremo ovviamente anche la causa di questa epidemia, e cioè una piaga che era chiamata malattia, e in particolare all'interno del Vector si stava studiando questa patologia soprattutto in merito alla creazione di nuove armi batteriologiche imperiali, in particolare il progetto imperiale I-71A, che sarà appunto la causa principale dell'epidemia e che è stato anche ricanonizzato nel videogioco Star Wars Commander tramite il virus Blackwing. Devo dire che questo romanzo da un lato l'ho apprezzato e dall'altro un po' meno, mi sono piaciute soprattutto appunto quelle che sono le ambientazioni e anche le caratteristiche di questi particolari zombie, poiché comunque nonostante la zombificazione, questi Stormtroopers avevano mantenuto alcune memorie di quando erano umani, soprattutto tramite un'intelligenza di base che permetteva loro di essere comunque una spina nel fianco. Non siamo ovviamente ai livelli di sviluppo e di intelligenza di The Last of Us, ma probabilmente siamo a uno step successivo rispetto a quelli che erano gli zombie di The Walking Dead. Paradossalmente in quest'opera quello che non mi è piaciuto è il fatto che ci siano comunque personaggi noti, come Han Solo e Chewbacca, che collaborano con un personaggio chiamato la Dottoressa Cody. E devo dire che a mio modo di vedere la presenza di questi personaggi iconici ha un po' spezzato quella che era proprio l'atmosfera febbricitante della presenza di zombie all'interno di quest'opera di Star Wars. Ma comunque rimane un romanzo assolutamente godibile, soprattutto per gli amanti del genere. E sicuramente anche i soldati che abbiamo visto nella serie Live Action Ahsoka sono ispirati a questi Stormtroopers, nonostante il fatto che lì ovviamente c'era lo zampino della magia delle sorelle della notte, un qualcosa che comunque avevamo già visto sempre all'interno della serie The Clone Wars e anche all'interno del videogioco Jedi Fallen Order. Ma in questo caso, come vi dicevo, ci troviamo di fronte a una citazione, a quelle che sono le tematiche horror. Mentre Contagio Mortale è un'opera che fa dell'horror la sua massima caratterizzazione, come le altre che vi sto per elencare. E andiamo proprio a vedere il prequel di Contagio Mortale, e cioè il romanzo Red Harvest, scritto sempre da Josh Raber nel 2010 e che purtroppo non è mai arrivato in Italia. E dico purtroppo perché ha una prerogativa davvero interessantissima, considerando il fatto che da un certo punto di vista è un upgrade pazzesco di quello che era Contagio Mortale, perché se Contagio Mortale ci presentava gli Stormtroopers sotto forma di zombie, pensate un po' Red Harvest ci presenta i Sith sotto forma di zombie. Infatti questo romanzo è ambientato molto più in là nel passato, fino a quelle che erano state le origini della malattia, come vi dicevo appunto l'agente patogeno che avremmo poi visto anche in Contagio Mortale e che era stato creato proprio da un Sith, e cioè dal Signore Oscuro Darth Drear, che aveva accidentalmente creato questo patogeno tramite un particolare rituale di alchimia Sith, che però aveva come scopo quello di creare l'immortalità. Ma le vicende vere e proprie del romanzo saranno poi ambientate mille anni dopo la creazione del virus, dove un altro Sith, cioè Darth Scabrus, cercherà nuovamente di replicare l'Elisir di lunga vita e di immortalità portato avanti mille anni prima, incappando però nuovamente nella malattia, che questa volta avrà delle conseguenze davvero disastrose. Perché essa si diffonde non solo tra le cabie del Sith, ma anche e soprattutto tra tutti gli altri accoliti Sith e i loro maestri che sono presenti nell'Accademia del Pianeta Odacer Faustin, e che vengono quindi trasformati in zombie affamati di carne e sangue. Perciò vi lascio immaginare quanto possa essere letale questa combo zombie Sith. Dopo questa immersione iniziale all'interno delle opere Legends, ci spostiamo invece nel canone, anch'esso ricchissimo di opere espressamente dedicate al genere horror. e partiamo alla grande con quella che a mio modo di vedere è una bellissima raccolta di racconti, e cioè Leggende Oscure, che è stata pubblicata nel 2020 e che è arrivata fortunatamente in Italia tramite Panini Comics nel 2022, e soprattutto che è stata scritta da George Mann e splendidamente illustrata da Grant Griffin. Questa particolare raccolta di racconti segue il filone di un'altra opera, e cioè miti e favole, scritta sempre da George Mann. Ovviamente però in questo caso i racconti hanno tutti quanti il tema dell'horror, e quindi soprattutto il tema dell'oscurità e del macabro. E in questo senso possiamo considerare Leggende Oscure come le fiabe dei Grimm ambientate nella galassia lontana lontana, ma non le fiabe dei fratelli Grimm edulcorate, ma quelle originali, quelle cioè che presentavano degli elementi abbastanza crudi e raccapriccianti. Ci viene narrato di rapimenti di bambini sensibili alla forza, di maschere oscure, di rituali proibiti, e di tutta una serie di eventi e situazioni che fanno capo alla galassia lontana lontana, ma sempre tramite tematiche agghiaccianti. E in questo l'opera falleva su quelle che sono le paure primordiali delle persone e degli abitanti della galassia, proprio come quella che è la base delle fiabe dei fratelli Grimm, che comunque prendevano delle situazioni reali e le trasformavano invece all'interno di un contesto fatto di paura. E sotto un certo punto di vista potrebbero essere considerate delle tipiche storie che i genitori di un pianeta della galassia lontana lontana raccontavano ai figli, soprattutto per farli stare, tra virgolette, buoni. Ma allo stesso tempo per educarli e soprattutto metterli in guardia nei confronti di quelli che sono i pericoli reali che la vita ci mette di fronte. E tutto questo ovviamente con la cornice di quelli che sono gli elementi tipicamente starwarsiani, e soprattutto le epoche tipicamente starwarsiane, perché ci sono racconti che sono ambientati comunque in epoche più remote, come ad esempio la Vecchia Repubblica, o ancora più in là, nel passato, ma ci sono anche racconti di leggende oscure che sono ambientati nel periodo imperiale, oppure anche nel periodo dell'Alta Repubblica, e ci mostrano infatti delle creature terrificanti, come ad esempio i Drengir, ma anche personaggi inquietanti, come nel caso del Grande Inquisitore, oppure Le Sorelle della Notte, eccetera. E in tutto questo ovviamente non mancano le storie riguardanti la vita dei Sith, soprattutto l'inquietante storia di Darth Noctis e della sua ossessione per l'immortalità, un qualcosa del quale vi avevo già parlato all'interno di un video dedicato a tutti i Sith presenti nel canone, che ovviamente vi invito a guardare se non l'avete ancora fatto. Ma passiamo ora ad un'altra opera canonica che è davvero una delle mie preferite sul tema horror, anche e soprattutto perché raccoglie una vastità di storie differenti. Sto parlando infatti di un'opera a fumetti e soprattutto di un intero omnibus, e cioè Guardatevi dal Castello di Vader, che raccoglie una serie di storie, sempre a tema horror, che sono contenute all'interno di quattro volumi principali, che sono Tales from Vader's Castle, Return to Vader's Castle, Shadow of Vader's Castles e Ghosts of Vader's Castle. Si tratta di opere scritte da Cavanscott che sono costruite letteralmente su quelli che sono i temi della paura come tributo soprattutto ad Halloween e ai grandi classici dell'horror. La storia in particolare segue le vicende di un gruppo di protagonisti che però nel corso di varie peripezie si troveranno a raccontare delle storie del terrore che hanno come protagonisti i più grandi villain della galassia lontana lontana, quindi ad esempio Tarkin, Darth Maul, Darth Tyranus, Jabba the Hutt, Darth Vader, eccetera. Come vi dicevo, questo omnibus è davvero vasto e io voglio parlarvi assolutamente di quelle che sono le storie che mi sono piaciute di più. Quindi da adesso fino alla fine di quest'opera tutto quello di cui vi parlerò potrete inglobarlo come se fosse comunque un'opera singola anche se ovviamente stiamo parlando di storie autoconclusive slegate fra di loro. Ma voglio citarvi quelle che a mio modo di vedere sono delle vere e proprie chicche. Partiamo ad esempio con quello che è il secondo numero di Tales from Vader's Castle che è dedicato ad una particolare storia che ha come protagonista il conte Dooku. E l'aspetto più interessante di questa vicenda riguarda le splendide tavole di questa storia che sono dei bellissimi omaggi ad un'altra opera che è un vero e proprio pilastro del genere horror a livello cinematografico. E cioè il film Dracula e il vampiro del 1958 che fu accolto splendidamente sia dalla critica e sia soprattutto dai fan di Bram Stoker e cioè il creatore del personaggio del conte Dracula. E ovviamente in questo caso la citazione è doppia perché all'interno del film ad interpretare il conte Dracula c'era proprio l'immenso Christopher Lee che non c'è nemmeno bisogno di dirlo è anche l'interprete del conte Dooku all'interno dell'universo di Star Wars e quindi queste tavole omaggiano non solo il personaggio di Dracula all'interno del film ma anche e soprattutto il mitico Christopher Lee. Anche il volume Return to Vader's Castle contiene davvero delle chicche molto interessanti anche e soprattutto per quanto riguarda la lore più generale di Star Wars. E in questo voglio citarvi la storia contenuta nel primo numero intitolata The Horned Devil che ha come protagonista Darth Maul soprattutto nel suo periodo passato sull'Otto Minor e cioè il pianeta di scarica dove poi sarà ritrovato in The Clone Wars da suo fratello Savage Opress. E quindi quest'opera funge da anello di congiunzione fra ciò che è accaduto in episodio 1 e ciò che poi ha riportato sulla scena il personaggio di Darth Maul. E di questa vicenda ne ho parlato anche all'interno di un video dedicato proprio al modo in cui il personaggio è riuscito a sopravvivere dopo le vicende di episodio 1 La Minaccia Fantasma. Sempre collegata alla lore c'è poi la seconda storia di questo volume intitolata The Curse of Tarkin che narra di un terrificante abominio che era stato creato dal Grand Moff e soprattutto per quanto riguarda appunto la lore è una vicenda che fa capo a quello che era il più ampio progetto dell'iniziativa Tarkin che in realtà era un insieme di progetti segreti dell'impero in cui venivano compiuti degli esperimenti in vari ambiti dalla biogenetica alle armi batteriologiche eccetera e anche e soprattutto alla creazione di questi abomini sia cibernetici che in carne ed ossa. E in questo caso ovviamente il personaggio di questa storia l'abominio di questa storia è una più ampia citazione al personaggio di Frankenstein o meglio al personaggio della creatura a cui il dottor Frankenstein aveva dato la vita. Sempre nel volume Return to Vader's Castle c'è un'altra vicenda che ho citato di recente all'interno di una live dedicata alla serie di gameplay Star Wars Outlaws che sto portando sul secondo canale dell'insolenza di R2D2 dedicato al gaming che vi invito ovviamente a seguire quindi iscrivetevi anche a quel canale se non l'avete già fatto trovate il link in descrizione. e proprio all'interno di uno degli ultimi episodi del gameplay ci siamo imbattuti in un easter egg davvero bellissimo che era basato proprio su una vicenda contenuta all'interno del quarto numero del volume e cioè Vault of the Living Brain che narra la storia di una cugina di Jabba e cioè Crack che suo malgrado voleva impossessarsi di un cervello contenuto all'interno delle catacombe dell'ordine Bomar ma che verrà poi scoperta da Jabba è punita in una maniera molto macabra che riprende quelle che sono le tradizioni dei monaci Bomar che per chi non lo sapesse sono un ordine che aveva come scopo ultimo quello di liberarsi da tutte le catene fisiche e quindi di elevare lo spirito e la mente e per questo si privavano letteralmente di tutto il loro corpo ad eccezione dei cervelli che venivano tenuti in vita all'interno di una teca ricca di nutrienti che veniva trasportata di qua e di là da dei droidi ragno che sono comparsi per la prima volta all'interno di Episodio 6 e che abbiamo visto in tante altre opere di Star Wars prima di passare alla prossima opera del video voglio fare un'altra brevissima citazione ad un'opera che comunque è collegata all'omnibus guardatevi dal castello di Vader poiché è praticamente stata scritta sempre da Kevin Scott e segue il filone di quelle che sono le tematiche horror dei volumi contenuti all'interno di quest'omnibus sto parlando della graphic novel Tales from the Death Star che è stata pubblicata lo scorso anno nel 2023 proprio nel periodo di Halloween e che contiene anch'essa delle storie autoconclusive e quella che voglio citarvi è l'ultima ma non voglio citarvela per quella che è la storia che comunque è molto molto bella ma per quelle che sono delle splendide tavole che contiene che sono splendide e soprattutto inquietanti allo stesso tempo la storia in questione è The Haunting of Grand Moff Tarkin e in parole povere rappresenta una caccia al Grand Moff nei momenti che precedono la fine della sua vita poco prima dell'esplosione della morte nera e l'utilizzo della parola caccia è molto molto calzante per il personaggio di Tarkin perché egli era cresciuto su Eriadu e soprattutto era cresciuto cacciando ed è un qualcosa che poi aveva fatto nel corso di tutta la sua vita soprattutto come uno dei più spietati imperiali e poco prima della sua morte ci viene presentata una visione che gli si para davanti agli occhi una visione macabra ma che come vi dicevo è davvero emozionantissima infatti la tavola che vi sto mostrando è che come vi dicevo è una delle mie preferite in assoluto ci mostra tutti gli spettri dei personaggi che sono stati eliminati direttamente o indirettamente soprattutto dal personaggio di Tarkin possiamo vedere quindi ad esempio il direttore Krennic ma anche Cassianandor Ginerso Sogerrera Bale Breorgana eccetera quindi tutti gli abitanti di Alderaan e tantissimi altri personaggi rappresentativi del fatto che Tarkin avesse compiuto una serie di malvagità nel corso della sua carriera e per questo a mio modo di vedere questa tavola ha una potenza evocativa clamorosa inquietante e malinconica allo stesso tempo e soprattutto ci presenta un qualcosa di inedito all'interno di tutte le opere in cui abbiamo visto Tarkin e cioè il fatto che egli per la prima volta nella sua vita poco prima di morire fosse letteralmente terrorizzato da qualcosa un evento che appunto non era mai accaduto nella sua vita e che invece si era presentato come un inquietante contrapasso poco prima della sua morte ma passiamo ora all'ultima delle cinque opere delle quali voglio parlarvi in questo video che anche in questo caso non è un'opera univoca ma una serie di romanzi intitolata Galaxy of Fear in particolare si tratta di una serie di 12 romanzi che sono stati pubblicati tutti in un biegno e cioè nel 1997 e nel 1998 e che sono stati creati soprattutto dopo il successo clamoroso di un'altra collana a tema horror e cioè quella famosissima di Piccoli Brividi tutti quanti voi la ricorderete che è stata scritta da Robert Lawrence Stein purtroppo in Italia sono arrivati solamente i primi due romanzi di questa serie entrambi nel 1999 pubblicati da Sperling e Kupfer che sono La Galassia del Terrore Mangiati Vivi e La Galassia del Terrore La Città dei Morti e i più attenti di voi avranno notato che l'incipit iniziale di questo video è proprio una citazione al titolo di queste opere e cioè La Galassia del Terrore Questi romanzi che ve lo ricordo nuovamente sono Legends sono ambientati qualche mese dopo gli eventi di Una Nuova Speranza e quindi appunto fungono da sequel del film e vedono al loro interno la presenza di personaggi noti come ad esempio Han Solo Chewbacca Boba Fett ma hanno come protagonisti dei personaggi inediti Abbiamo in primis Tasha Arranda e Zack Arranda che sono fratello e sorella e in particolare sono due ragazzi sopravvissuti al disastro di Alderaan e quindi sopravvissuti alla distruzione del pianeta C'è poi il loro zio Mammonul e il droide di V9 Dopo la distruzione di Alderaan i due ragazzi che sono anche sensibili alla forza cercheranno di nascondersi all'impero galattico e soprattutto affronteranno una serie di peripezie all'interno di vari pianeti della galassia scontrandosi nella maggior parte dei casi con le forze del male questi romanzi sono stati creati per essere opere per giovani lettori come vi dicevo infatti sono totalmente ispirati ai racconti di piccoli brividi ma se avete letto i racconti di piccoli brividi saprete che comunque sono molto molto inquietanti e quindi adatti anche per un pubblico adulto e infatti voglio parlarvi in particolare di quelle che sono le tematiche contenute all'interno di uno di due romanzi che sono arrivati in Italia e cioè la città dei morti che già inizialmente ci presenta incubi orribili e soprattutto la presenza di fantasmi inquietanti ma non finisce qui perché la storia tocca delle tematiche molto molto macabre trattando poi anche temi come la paralisi e soprattutto la morte apparente e ciliegina sulla torta tratta anche la tafofobia e cioè la paura di essere sepolti vivi che come ben ricorderete se amate il genere horror era una paura che attanagliava lo scrittore Edgar Allan Poe e che è stata oggetto di moltissime sue opere inquietanti e paurose questi romanzi erano davvero molto molto interessanti nonostante la presenza dei personaggi iconici della saga che come vi dicevo invece all'interno ad esempio di contagio mortale aveva un po' rovinato le atmosfere e mi è sempre dispiaciuto che in Italia non siano arrivati tutti gli altri ma sono stato molto molto contento quando i due fratelli Arranda sono stati ricanonizzati abbiamo infatti rivisto Tash e Zack all'interno del racconto Tales of Villany Gravedigger contenuto all'interno del decimo numero della serie a fumetti Star Wars Adventures del 2020 ovviamente però in questo caso sono stati ricanonizzati solamente i protagonisti quindi i due personaggi e non tutte le storie che sono contenute all'interno dei romanzi di Galaxy of Fear non siete ancora abbastanza terrorizzati è arrivato il momento di svelarvi l'opera bonus che potrete già gustare questa sera in una serata oscura dedicata sia all'horror e sia soprattutto alla galassia di Star Wars un'opera che vi farà venire i brividi ma dalle risate soprattutto perché sto parlando di uno special della Lego in particolare Lego Star Wars racconti spaventosi che potete trovare su Disney Plus che quindi come vi dicevo potete vedere questa sera per festeggiare Halloween anche in questo caso le vicende di questo special Lego sono ambientate all'interno della fortezza di Darth Vader su Mustafar che ovviamente è l'ambientazione perfetta per qualsiasi horror ma vede come protagonisti Podemeron e un giovane ragazzo di nome Dean e soprattutto vede come antagonista un personaggio molto molto particolare e cioè Van Ey colui che era stato fedele servitore di Darth Vader e Darth Sidious e sarà proprio Van Ey a raccontare nel corso della storia dei racconti spaventosi e anche in questo caso i racconti avranno delle radici che omangiano più in generale i grandi capolavori del genere horror ma il tutto sarà condito dalla classica irriverenza degli special della Lego e vedrete anche tantissime chicche e tanti riferimenti all'universo di Star Wars tramite dei racconti che sotto certi aspetti possono anche essere considerati dei what if molto molto interessanti ditemi nei commenti cosa ne pensate delle opere che vi ho presentato e soprattutto quelle che vi sono piaciute e vi hanno attirato di più e se questo video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le prossime uscite io vi saluto vi auguro buon Halloween e che l'insolenza sia con voi